Ciao a tutti e bentornati su Magistro Flotus. Oggi torniamo sul stile of meta, una rubrica che avevo già provato a proporre un bel po' di tempo fa anche su altri formati, ovvero quali sono i mazzi che potrebbero battere i tier in questo momento del formato in questione. Quest'oggi parleremo di Centurion. Ho aperto qui davanti il meta, l'ultima tabella sul meta, anche se probabilmente sarà un po' cambiata perché ormai è passato un mesetto da questa tabella, però diciamo che i primi tier sono fermati, sono quelli, e io vi voglio nominare tre mazzi che sono poi interscambiabili, dopo ne parliamo bene, che secondo me sono sottogiocati ma che in questo momento starebbero molto bene nel meta. Prima di iniziare vi ricordo Fantasia Store, il nostro sponsor, il nostro collaboratore. Qua in alto avete il codice sconto come sempre, Lotus 5, scritto tutto maiuscolo, con il quale avete il 5% di sconto su tutti i prodotti del loro store online, quindi vi invito a darci un'occhiata, ci sono veramente un sacco di prodotti di magic, non action figure, pop, un po' di tutto quello che volete. Detto ciò partiamo con il video, brevemente i tier ma se non li conoscete vi invito a guardare il video dedicato ai tier di Centurion e lo trovate qua sul canale nella playlist dedicata, trovate il meta, trovate tutto quello che vi serve sul Centurion. Comunque brevemente i tier principali sono Rafin, Diada e poi c'è stata una risalita nell'ultimo periodo di Ogak, Ghast in realtà non tanto, questa tabella credo che, ripeto, sia un pochino vecchiotta, quindi non so se lo considero uno dei primi tier Ghast, Tazigur abbastanza e poi direi Asmo, quindi in realtà bisognerebbe forse cambiare un po' questa lista, scusatemi, questa tabella e direi Rafin, Diada, Ogak, Asmo e Tazigur sono i più giocati con Ghast e Grist che li seguono un pochino dopo. Detto ciò, sicuramente due mazzi da vattere, due e mezzo, sono Rafin e Diada, Ogak in realtà più o meno, a volte si vede, a volte non si vede, però devo dire che è un mazzo abbastanza giocato. Anche se il focus, ripeto, deve essere su Rafin e Diada, se andate a un torneo, qualsiasi esso sia, non potete pensare di giocare, non giocare contro questi due mazzi qua, è praticamente impossibile. Ormai stanno invadendo il meta in maniera ancora più pesante di quella di questa tabella, quando uscirà probabilmente l'approssimo aggiornamento saranno salite queste percentuali e in ogni torneo sono presenti, nei tornei grossi, spesso in molteplici copie. Quindi se vi dovete, se dobbiamo fare uno stilo meta, se dobbiamo giocare un mazzo forte contro i tier, io giocherei un mazzo che sta bene da Rafin e da Diada. Poi, eventualmente, anche gli altri, però i primi due sicuramente sono quelli, perché quelli li beccate 100%, cioè 100% per modo di dire. Se andate a un torneo di sei turni, almeno uno dei due lo beccate. Gli altri no, non è assolutamente detto che li becchiate. Quindi, partendo da questo presupposto, ho messo tre comandanti che secondo me sono molto forti, sottogiocati per il loro potenziale. Quello che volevo dire è che io ve li faccio vedere in un ordine, ma non è detto che sia questo l'ordine corretto, potrebbe essere interscambiabile. Quindi è una top 3, ma non vincolante, non va dal terzo al primo necessariamente. Sono tre mazzi che stanno bene, punto, in generale. Allora, il primo è Atraxa. Allora, Atraxa in realtà forse non è da considerare un mazzo poi così tanto, ve lo zoom un po', così tanto sottogiocato. Sta cominciando a vedere una bella linea di gioco, sta cominciando a vedere anche lei dei risultati, quindi forse forse è al limite dello stilo meta. Di solito nello stilo meta cerco di mettere dei mazzi esotici un po' particolari che non si vedono. Atraxa è forse un po' al limite, però visto che non è ancora giocatissima, ci sta ancora bene e secondo me è un mazzo che può fare bene sia con Rafin che contro Diada. Allora, partiamo dal presupposto che è un mazzo tendenzialmente, per come lo giocherei io quantomeno, tendenzialmente controlloso, con un sacco di removal, un sacco di counter. Tutte le, diciamo, le risposte più forti del formato le potete giocare, perché giocate quattro colori e i quattro colori che controllano pure bene, quindi non ha veramente sfighe dal punto di vista del controllo. Avete anche il Dream Halls, che per chi non la conoscesse è una carta fortissima che vi consente di esiliare una carta che condivide un colore e pagare 0 una spell. Quindi voi potete esiliare una spell qualsiasi per giocare Atraxa a costo 0. A costo 0! Atraxa è fortissima perché è un 7-7, Volare, Cautela, Detach, Lifelink. Quando entra peschiamo 200 carte, riveliamo le prime 10 e mettiamo in mano una per tipo. Quindi veramente, veramente una carta di impatto. Perché dico che sta bene andare a fine Diada? Sono impazzito? Mi sono ubriacato? No. Secondo me è un mazzo che può stare bene. Ho parlato con diversi giocatori di Atraxa, a mio parere anche forti, e bene o male mi hanno dato più o meno tutti lo stesso feed. Poi magari ci si sbaglia, però il feed è stato lo stesso. Il punto qual è? Il punto è che contro Diada possiamo stare molto bene grazie ai counter. Cioè è vero che loro propongono cose molto rotte, però abbiamo veramente tanti modi per controllarlo. Diada fa molta fatica ad entrare perché noi siamo pieni di counter e ovviamente li terremo per Diada. Cioè l'unico target veramente, veramente valido è quello. tolti i reanimini eccetera, però diciamo che con tutti i counter che giochiamo fare Diada sarà veramente un problema. E possiamo permetterci di tenere i counter per Diada perché abbiamo quattro colori e giochiamo veramente un 8 contro il cimitero forte. Abbiamo il Cling to Dust, abbiamo il Kaias Guile, abbiamo il... forse anche il Boju... no, il Boju Kavog no, però ipoteticamente si potrebbe giocare. Abbiamo un po' di tutto, un po' le Endurance si può giocare, che non so se si qua lo gioca, il Deathrite Shaman. Insomma abbiamo veramente di tutto un po' e soprattutto possiamo aggiungerne ulteriormente, e questo poi è il punto di cui parlerò tra un attimo, per aiutare il cimitero e per counterare le risposte veramente... cioè le minacce veramente forti di Diada. Questo mi fa dire che Atraxa sta messa decentemente perché ho l'impressione che Diada faccia fatica a risolvere proprio il comandante e se non risolve il comandante oggettivamente è un mazzo che sta molto indietro, è un reanimator normale, però è un reanimator normale senza il blu che si gestisce molto bene e si controlla abbastanza facilmente. Quindi a mio parere con Diada match up ok. Con Raffin il discorso è un po' diverso perché Atraxa deve entrare e non è banale far entrare un costo 7, a meno che non lo variamo con Dream Alls, con Riti o altre cose. Però c'è da dire che vabbè, uno se entra è un disastro perché è un 7-7 cautela, legame vitale, dettage, quindi Raffin non passerà veramente mai più, blocca benissimo, gli porta via il pezzo, guadagniamo 7 vite. Insomma se entra è veramente un disastro incredibile. Due, giochiamo 4 colori, siamo pieni di removal, di counter, quindi anche lui farà fatica a risolvere Raffin, possiamo fargli tante removal sulle creaturine, ma soprattutto è un mazzo estremamente versatile e questo è il punto che secondo me dà Atraxa un boost enorme. Io adesso qua non so la lista se sia settata per Raffin di Ada, un po' probabilmente sì, alcune carte sì, però ipoteticamente questo è un mazzo che essendo controllo, essendo 4 colori, può giocare tutto quello che vuole, cioè ha veramente un pool di carte infinito a cui accedere. Questo gli permette di settarsi molto bene contro i tire, qualsiasi essi siano, del formato, quindi in questo caso contro Raffin e Diada. Quindi oltre ad avere una naturale predisposizione per il controllo che in questo momento ci può stare molto bene, soprattutto con Diada, ha una possibilità di setup molto 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 alta. Questo mi fa dire che è un mazzo che può essere forte da portare. La pecca è che non è un mazzo semplicissimo, è un mazzo controllo con tutte le sfighe del caso ed è un mazzo molto lento, quindi da Raffin ci possiamo morire sulle giocate tempo, su troppa aggressione, potrebbe non essere così banale. Però secondo me con un mazzo di questo tipo ben settato, quindi magari inserendo ancora più carte forti nel matchup e giocando in modo opportuno, giocando bene, può essere un matchup positivo, sia Raffin che Diada. Il secondo mazzo di cui voglio parlare è Aminatou. Allora Aminatou in realtà è un mazzo che una volta si giocava a Reanimator eccetera, poi è sparito dai radar per un certo periodo e poi adesso qualche d'uno, poche persone l'hanno, hanno deciso di riportarlo in qualche torneo. Allora, perché Aminatou? Allora il piano di Ranimator in questo momento è un piano molto molto forte. Lo vediamo dal fatto che Diada è uno dei due tier principali in questo momento. Il problema di Diada, la sfiga di Diada però, è che non ha il blu. Quindi fa un piano molto più Reanimator, molto più aggressivo rispetto ad Aminatou per esempio, però non ha il blu, quindi fa fatica a difendersi. D'altro canto Aminatou pur essendo un mazzo di base Reanimator che poi può fare ovviamente un piano value con Aminatou stessa che ci permette di pescare, il meno uno è molto forte perché ci blinka una creatura, quindi ci fa fare doppio effetto delle creature che abbiamo giocato, anche solo Griff, Arconte, se lo facciamo due volte è veramente fortissimo. Ma qual è la cosa che mi fa dire sì ci sta a giocare Aminatou? La cosa che mi fa dire sì ci sta a giocare Aminatou è che rispetto a Diada ha un matchup migliore contro Rafin e ha un matchup migliore contro Diada stessa. Vabbè Diada contro Diada ha un mirror e va bene. Secondo me invece Aminatou contro Diada può stare molto bene perché il piano è lo stesso. È vero che lo faccio in modo meno aggressivo ma io controllo di più. Io ho accesso ai counter, tu no. Quindi tendenzialmente quello che succede è che io posso rallentare il tuo piano, counterarti Diada, counterarti Reanimini eccetera. E allo stesso tempo oltre che poterti reanimare le tue stesse creature perché ci sono diversi Reanimini che ci permettono di Reanimate per esempio e che ci permettono di Reanimarle direttamente le creature del cimiterio o anche del cimiterio anche dell'avversario, anime dead eccetera. Oltre che poter Reanimare le tue creature faccio un piano controllo con i counter che mi permette di fare il mio piano anche se dopo e a te non farlo fare. Contro Rafini invece c'è un po' il discorso che facevo prima per Atraxa. Allora innanzitutto giochiamo dei colori fortissimi Esper come anche Rafini. Questo ci permette anche qua di avere una versatilità tale da poterlo farcire di removal e di risposte mirate anche contro Rafin e quindi avere un discreto matchup. Una volta che siamo in controllo basterà reanimare uno dei nostri ciccioni per passare in vantaggio, cioè se reanimano Orconte, Iona eccetera comunque Rafin non è contentissima, anche la gente che gli ruba i pezzi, insomma non è il massimo della vita. Quindi anche Aminatou secondo me è un buon mazzo che si può portare in questo momento e che sta abbastanza bene contro i due tier principali. Ultimo, ma non ultimo o loro, l'ennesimo Esper controllo. E voi direte sì, ci hai fatto vedere tre mazzi simili. È vero, tutti e tre giocano la color pie di Esper, tranne Atraxa che ha anche il verde, ma è in più. Però è evidente che in questo momento è la color pie, una delle color pie quantomeno più forti, più solida, è evidente. E tra l'altro è la color pie che ci dà più risposte in assoluto, generiche, perché il bianco comunque ci permette di settarci per un meta preciso, il blu, vabbè, è il blu, e il nero, il blu e il nero in realtà sono i colori più forti in questo momento di Centurio. Quindi abbiamo il blu e il nero, poi giochiamo il bianco come, diciamo, come splash, anche se in realtà non è uno splash, per mettere delle carte specifiche che ci servono in certe situazioni. Il bianco è da sempre un ruolo ottimo per questa cosa, ha le removal, ha i planeswalker forti, si sposa benissimo con il blu e con il nero, insomma è veramente un colore molto adatto a fare supporto ad altri colori. Oloro. Oloro ha due grossi vantaggi, allora contro Diada lo stesso discorso che ho fatto per Atrax e per Aminatou, quindi non lo ripeto, counter, fa fatica a risolvere, abbiamo il bianco che esiglia, quelle sono le cose. E va bene, quindi su questo, contro Diada siamo tutti d'accordo, per tutti e tre i mazzi. Contro Afin ha il comandante stesso che è un cannone, perché oltre che avere lo stesso discorso di Aminatou e Atraxa, le removal, si può settare bene contro quel matchup, eccetera, eccetera, ha in command un comandante che gli permette di guadagnare due vite a turno. Due vite a turno sono tantissime, è vero che Rafin è un mazzo aggressivo, però due vite a turno sono tantissime. Se noi riusciamo a risolverli anche solo Rafin, che è poi la carta che non deve stare giù nel matchup, se noi riusciamo a risolvere Rafin, comunque lui farà molta fatica a picchiarci, ma veramente molta, perché noi guadagniamo due vite a turno e quando lui inizierà a fare tanti danni ne avremo già guadagnate sei, otto. Capite che è un vantaggio veramente, veramente enorme. Quindi Olor, secondo me, in questo momento sta benissimo nel meta, pur non essendo un mazzo che porterei in altri meta, in altre situazioni, in questo momento è un mazzo, a mio parere, ottimo, che sta bene contro i due tire principali e che quindi può valere la pena portare. Detto ciò, come sempre vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente vi invito a scrivere nei commenti il vostro parere, so che qualcuno di voi non condividerà questa mia visione e li invito a scrivere nei commenti la loro, così possiamo parlarne, creare un po' di discussione costruttiva per tutti. Vi saluto, fatemi sapere se il video è stato il vostro gradimento, ci vediamo la prossima volta. Buona serata e ciao a tutti.